Io sono il titolatore del bar Piazzetta Ponte Caracciolo e abbiamo sempre questi problemi, quando piove ci allaghiamo, non ci sono problemi, non risolvono mai problemi, siamo rovinati. Vorrei una cosa, qualche cosa che aggiusterebbe, forse... Ora se ne è caduta anche la strada. Poi si è sceso la strada a via Marco Rocco, Torre Padula, il precedente si è sceso qua a via Toscanella, non sappiamo più che dobbiamo fare, adesso si fa i caliciusini qua davanti, proprio che è pericoloso, non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più. Da stamattina non state lavorando? Niente, da stamattina, ogni volta che piove ti allaga e non lavoriamo mai. E le tasse giustamente sono... Se si devono pagare, il comune deve andare avanti, forse non è colpa del comune, non lo so, però dopo abbiamo questi grandi problemi.